Con una piccola cerimonia nell'ambito del mercatino svuota la tua soffitta alla presenza dell'assessore comunale Chiara Mio, il presidente della Proloco Pordenone Gianfranco Tonus ha consegnato ai rappresentanti dell'associazione VIP Claunando un assegno di euro 2275 ricavato dalle donazioni dei cittadini pordenonesi nella notte di Capodanno. L'assessore comunale Chiara Mio. Siamo qui oggi insieme alla Proloco Pordenone per consegnare quanto è stato raccolto in occasione dell'ultimo dell'anno quando Proloco insieme ad altri distribuiva panettone e la gente contribuiva spontaneamente si è riuscita a raccogliere 2275 euro. La Proloco destina questa somma e la indirizza a VIP Claunando, un'associazione meritevole che si occupa del benessere dei bambini quando sono ricoverati in ospedale e si occupa di renderli più allegri. Come comune di Pordenone siamo molto contenti non solo dell'iniziativa ma anche di tutto quello che la Proloco sta facendo. Oggi riceviamo questo regalo che ci ha fatto Pordenone, la Proloco e tutta l'amministrazione comunale, un aiuto che porteremo nelle strutture sociosanitarie dove operiamo in regime di volontariato. Tutti i nostri clown volontari vanno negli ospedali, nelle pediatrie, nelle case di riposo, cercano di portare un piccolo sorriso, quello che si riesce a fare in maniera molto semplice, senza nessuna professionalità ma solo con il piacere di stare assieme a chi soffre o a chi ha un po' di bisogno. Grazie a tutti.